Referendum costituzionale. Il sì ha stravinto in Italia, così come in provincia di Como. Fin dallo scrutinio dei primi seggi si era intuito un netto margine a favore del taglio dei parlamentari italiani, la bandiera del Movimento 5 Stelle sostenuta, con toni più o meno convinti, da una buona fetta dei partiti italiani. Apertamente contrarie alla riforma costituzionale erano solamente la sinistra tradizionale, i radicali e azione di calenda. Scettici, se non critici, anche i leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e Matteo Renzi di Italia Viva. Nel Comasco il 67,66% dei votanti si è espresso a favore del sì, una percentuale lievemente inferiore rispetto a quella nazionale, ma comunque bulgara. Nelle analisi post voto si è scoperto però che la maggior parte dei no è concentrata nelle città più grandi e in particolare nei centri storici, una tendenza in parte confermata anche in provincia di Como. Nella maggioranza dei comuni il sì ha quasi sfiorato il 70%, mentre a Como città le percentuali sono state più equilibrate. Nel capoluogo lariano il sì ha ottenuto circa il 61% dei voti, quasi 7 punti in meno rispetto alla media provinciale. A conferma di questa tendenza è il dato di Milano, dove il sì è andato di poco oltre il 56%. La volontà degli italiani e dei comaschi ad ogni modo è chiara, meno parlamentari. Per la precisione 230 deputati e 115 senatori in meno.